per una gran bella carrellata di etf obbligazionali che possono essere da super dividendi per creare un flusso di cassa continuo si potrebbe parlare qui per decenni ma quanto io non sia attratto da questa classe sono anche pienamente consapevole del fatto che si tratta comunque di una parte molto importante di tantissimi portafogli e che non può trovare o non essere interessante anche per persone che non hanno voglia di inserire le obbligazioni nei propri portafogli ma chi lo sa magari mi metto anch'io qualcuno in portafoglio ciao a tutti e bentornati sul canale o risparmio come sempre io sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aieff ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare dove racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito un etf interamente dedicato alle obbligazioni per generare super dividendi potrebbe essere considerato utopia o eresia per quanto mi può riguardare ma quando poi incontri un canale come quello di lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi capisci come anche questo tipo di asset class può essere effettivamente interessante e generale tantissimo cash flow abbassando anche in molti casi la volatilità del proprio portafoglio ma comunque puntando a un certo capital gain oggi voglio proporre 5 etf più 1 in regalo per le prime 10 milioni di visualizzazione i primi 10 milioni di like nei quali anch'io ci andrei a mettere un gettoncino sempre ricordando che questi non sono assolutamente dei consigli finanziari me ne guardo bene ma delle semplici considerazioni a scopo didattico per un eventuale mio investimento siamo tutti diversi con diversi obiettivi con delle diverse anche percezioni del rischio e per cui fate i vostri scudi nel caso anche qualcuno di questi prodotti fosse di vostro interesse i share usd corporate bond col ticker lqd e l'indice i box usd liquid investment grade replica le obbligazioni societarie denominate in dollaro statunitense che sono più liquide il rating di questa obbligazione è investment grade un etf per cui che non investe in obbligazioni di tipo governativo e che si concentra in una buona percentuale negli stati uniti d'america essendo quotato in us dollar a quasi 4 miliardi di dollari anzi di euro di asset under management per cui si tratta di un prodotto molto liquido un ter molto interessante quello meno caro di quelli che propongo oggi dello 0 20 per cento una politica di distribuzione che eroga delle cedole di tipo trimestrale per cui quattro volte l'anno esposto per quasi un 63 per cento negli stati uniti d'america e poi con piccolissime percentuali anche in altri paesi per cui i più significativi sono il regno unito e il giappone dall'anno della sua quotazione che è il 2003 ha dato praticamente rendimento 0 se non si contano le distribuzioni mentre se includiamo appunto queste raggiungiamo quasi un 129 per cento che è poco al di sotto di un 6,8 per cento di car granulizzato distribuisce circa 3,33 euro di erogazione annuale che sono circa il 3,47 per cento di yield a costo attuale delle quote i share usd high yield corporate bond con un ticker che è IHYU l'indice i box usd liquid high yield cut replica le obbligazioni societali più liquide denominate in dollaro statunitense con rating sub investment grade anche in questo caso obbligazioni che non sono di tipo governativo e anche in questo caso molto esposto negli stati di america ma anche più del primo ma lo vediamo fra poco in questo contesto si tratta di obbligazioni più rischiose del primo etf fondo molto liquida anche questo con quasi 2,9 miliardi di euro di asset under management ma un term leggermente più alto più del doppio dello 0,50 per cento in questo caso la distribuzione di tipo semestrale per cui due volte all'anno più del 69 per cento sono su aziende USA e poi via via a scremare anzi a scemare non a scremare le posizioni piccolissime del resto del mondo in particolare in questo caso Paesi Bassi Irlanda sono le due maggiormente rappresentate dal 2012 anno del suo lancio ha dato un rendimento del 24 per cento escluse le distribuzioni mentre se consideriamo anche quest'ultime il rendimento di circa 122 per cento circa con un card annualizzato del 12 per cento niente male per un etf obbligazionario che ha uno yield attualmente al torno a 4,21 per cento i share emerging asia local government bond con il ticker IS0S l'indice Bloomberg Emerging Market Asia Local Currency Government Country Cup e bond replica le performance dei titoli di stato in valuta domestica emessi dai Paesi emergenti asiatici ogni singolo Paese pesa al massimo il 40 per cento dell'indice cambiamo registro qui e ci andiamo ad orientare verso dei bond governativi ma in questo caso solo verso i Paesi emergenti e solo verso quelli asiatici un'area ben ristretta e definita fondo medio quasi tendente verso il piccolo che ha 172 milioni di asset under management anche in questo caso con un ter dello 0,50 per cento e una distribuzione di tipo semestrale molto più diversificato in termini geografici anche se i primi quattro Paesi che sono Indonesia Malesia Cina e Corea del Sud vanno a coprire circa 75 per cento di ponderazione del totale dell'indice dal 2012 anno del suo lancio ha dato un rendimento del 5 per cento escluse le distribuzioni in mente se consideriamo anche quest'ultime il rendimento del circa 39 per cento con un card analizzato del 3,9 per cento appunto su base anna ma si tratta comunque di un prodotto molto particolare molto specifico il suo yield è di poco al di sopra del 3 per cento spider bloomberg euro high yield bond con il ticker jnke l'indice bloomberg liquidity screened euro high yield bond replica il debito senior bullet opzionale a vendere ed ad acquistare a tasso fisso emesso nel mercato dei euro bond nei mercati domestici che compongono l'indice la scadenza delle obbligazioni da 1 a 15 anni e stiamo anche qui sul comparto high yield ma ci spostiamo in Europa e rimaniamo sul comparto corporate anche se rimanendo in Europa non è detto che non ci siano Paesi non europei ma questo lo vediamo fra poco fondo di medie dimensioni con circa 340 milioni di euro di asset under management con un ter dello 0,40 per cento e una distribuzione anche qui di tipo semestrale per cui due volte l'anno USA Italia e Francia i paesi che hanno una maggiore ponderazione nell'indice è circa il 33 per cento del totale fatto da questi tre paesi ma poi seguono anche Germania Lussemburgo e di paesi bassi che hanno una discreta ponderazione dal 2012 anno del suo lancio ha dato quasi un meno 6 per cento di rendimento escluse le distribuzioni mentre se andiamo a considerare anche quest'ultime il rendimento è del circa 40 per cento con un cable del 4 per cento su base annua ma si tratta comunque di un prodotto che basa la maggiore fetta sull'Europa che in questo momento non è che sia proprio un cavallo al galoppo il suo yield è del 3,65 per cento Vanguard US Dollar Emerging Markets Government Bond con il ticker VEMT questo indice che è il Bloomberg Emerging Markets US Dollar Sovereign and Quasi Sovereign replica i titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi da governi e istituzioni semi pubbliche dei mercati emergenti tutte le scadenze sono incluse è un rating misto è un prodotto molto particolare che include appunto diverse tipologie debiti diverse tipologie di paesi emergenti con diverse tipologie di rating fondo di medie dimensioni con circa 367 milioni di euro di asset under management con un tell dello 0,25 per cento è una distribuzione di tipo mensile nessun paese supera qui la ponderazione a doppia cifra quello più altamente rappresentato nel Messico che si trova al di poco al di sopra del 6 per cento ma i primi 10 paesi che non arrivano neanche al 42 per cento vanno a ponderare comunque l'indice dall'anno del suo lancio che è solo il 2016 ha reso quasi un meno 17 per cento escluse le distribuzioni mentre se inquidiamo anche queste siamo un 8,3 per cento scarso quindi un cadre dell'1,7 per cento scarso annualizzato con uno yield di distribuzione del 4,93 per cento infine il regalo per i primi 10 milioni di like l'iShare JP Morgan USD Emerging Markets Bond l'iShare JP Morgan USD Emerging Markets Bond col ticker IEMB eh appunto non mi faceva registrare questo indice JP Morgan IMB Global Core replica i titoli di stato e quasi statali denominati in dollari statunitensi dei mercati emergenti scadenza minimo due anni credo quello più famoso e amato a distribuzione mensile nonché credo anche quello più liquido con un asset under management di 4,8 miliardi di euro anche qui governativi o quasi dei mercati emergenti terra dello 0,45 per cento come accennavo prima tutti i mesi ci arriva il gettoncino anche qui molto spalmato sui vari paesi per i quali i primi 10 ponderano circa 35 per cento e abbiamo Messico, Indonesia, Arabia Saudita, Turchia in primis anche in questo caso ponderazioni basse e nessuno che supera il 5 per cento dal 2008 anno del lancio ha fornito un rendimento del 13,88 per cento senza le distribuzioni mentre se anche queste vengono considerate ci andiamo a portare circa un più 146 per cento scalso che fanno ottenere un cacere del 12,1 per cento circa anche questo niente male vale al pancino non fa vero? bene se questo video è stato il tuo gradimento per fuori supportami per trovare qualcuno che me lo faccia dormire quando registro e ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma a te costa un attimino ma per me e per lui significa anche il mondo giusto? bene se sei nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun video successivo fammi sapere se tu hai qualcuno o più di uno di questi etf se ne stavi valutando ad un eventuale inserimento nel tuo portafoglio bene anche per oggi è tutto da parte di tutte e due non mi resta solo che salutarti e dirci arrivederci a un prossimo video a presto ciao andiamo? andiamo a nanna? no? andiamo a nanna ciao ciao ciao